In questo video tratteremo la paura di sapere che porta a mentire a noi stessi. La paura di sapere è come la paura di vincere, è una paura che ci portiamo dentro per tutta la vita e nasce con il superio, superio è la coscienza morale, quindi nasce da una educazione mirata ad obiettivi collettivi utilitari, non personali e quindi falsi. Consiste nell'arte di mentire a se stessi nella supposizione che meno si conosce, meno si rischia e più si sta tranquilli e beati, come adagiati nei propri schemi ripetitivi e stabili, che sono un patrimonio di tutti, schemi con i quali ci viene fatta violenza ogni volta che nasciamo. In altre parole, la tranquillità sociale, la tranquillità collettiva, il quieto vivere, esige delle cosiddette garanzie. Per cui colui che tradisce l'ordine costituito, colui che si ribella, in particolar modo l'artista, il trasgressore, l'ibrido per eccellenza, ovvero sia il genio, la personalità creativa, viene subito punita, viene subito corretta, arginata, per cercare di contenere il suo pensiero creatore, che è sconvolgente. Tutto ciò che è nuovo fa paura. E allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della paura della diversità, che ci riguarda un po' tutti. Basta fare un piccolo esempio per ricordarlo. Ad esempio, quando ci smarriamo in una città che non conosciamo, una città straniera, entra subito in moto un meccanismo di allarme, che viene dirottato verso la ricerca della strada del ritorno, la retta via del ritorno. Vogliamo tutti ritornare a casa. Frase simbolica, Ulisse. Vogliamo tutti tornare a casa tra le nostre consuete mura. Ma nel fare questo, nel ritornare, noi dimentichiamo il desiderio. E qui scatta il problema. Dimentichiamo il desiderio. Cos'è il desiderio? Si desidera ciò che non abbiamo. E ciò che non abbiamo equivale a ciò che non siamo. O ciò che non sappiamo ancora di essere. Ed ecco allora che nel ritorno a casa, nel ritorno allo schema fisso, alla mentalità collettiva, noi preferiamo chiudere gli occhi di fronte al nuovo, volgendo il nostro sguardo soltanto verso ciò che conosciamo bene, ciò che è familiare, ignorando il sussutto del fanciullo interiore. Una voce flebile ma persistente, che necessita di essere ascoltata, altrimenti arrivano i sintomi. I sintomi compaiono quando non ascoltiamo noi stessi. La flebile voce, la voce della nostra anima, del nostro inconscio. Il sintomo ovviamente ci chiede sempre qualcosa, no? Soltanto che sintomo significa ascolto, sviluppo di un atteggiamento creativo, questo chiede il sintomo. Ma d'altra parte noi vorremmo anche evitare la tensione della creazione. Creare è faticoso. Non vorremmo sforzarci, non vorremmo fare nulla, vorremmo il paradiso terrestre. E per evitare la tensione della creazione, o la preoccupazione di cavarcela in una situazione nuova, ci affidiamo al pensiero collettivo. Gli altri hanno già pensato per noi, hanno già pianificato, hanno già stabilito delle regole, delle strade da seguire, dei comportamenti tipici, o degli atteggiamenti e dei valori preventivati. che vengono introdotti nella nostra coscienza, senza che noi possiamo accoglierli criticamente. È un po' come il dialetto. Lo accogliamo criticamente. Acquisiamo una certa musicalità, una certa inflessione dialettale, senza neanche sapere che tutto ciò sta accadendo. Ce ne accorgiamo soltanto quando facciamo un confronto con il mondo esterno, quando andiamo in un'altra zona geografica. In questo senso possiamo anche parlare di intrusione acritica, indesiderata, nella nostra coscienza. Una violenza. Una specie di stupro psicologico che ci rende muti, sordi, ciechi, di fronte al mistero della vita, che è il più affascinante capitolo dell'irrisolto. Ora, nel momento in cui gli altri ci offrono o ci impongono la loro interpretazione della realtà, quindi anche un mondo di valori già preconfezionato, già stabilito, dove ogni rischio è minimo, perché è calcolato, dove domina la stasi, la calma, il sonno, la costanza, accade che noi veniamo violentati, nel bene e nel male. Ma perché? Perché siamo costretti a rinunciare alla nostra ricerca. Siamo costretti a rinunciare al nostro desiderio, sopprimendo un modo di intendere scomodo, pericoloso, e mostrandoci invece, come dire, tranquilli. Come un cuscino su cui dormire. La società ci vuole innocui. Shakespeare diceva che un uomo che pensa è un uomo pericoloso. Un uomo che dorme è innocuo. Uno che sta zitto, non protesta. con gli occhi chiusi, adagiato. Perché tutto deve essere sotto controllo. Ora, se noi decidiamo invece di restare svegli, se ci arriva l'insonnia, arriva l'insonnia come sintomo, cosa significa sul piano psicosomatico? Significa che qualcosa ha bisogno di un'ulteriore elaborazione. La parola elaborazione cosa vi ha a vedere in mente? Qui il terapeuta propone al paziente delle associazioni verbali. Elaborazione. Vuol dire che dobbiamo cogliere una verità. Dobbiamo valutare. Dobbiamo comprendere. Dobbiamo aprirci al nuovo. I bambini per esempio sono esperti in tutto questo. Pensiamo ai bambini capricciosi, irrequieti, che vengono mandati a letto a dormire. Oppure si dice loro, stai buono, non ti muovere, fai silenzio. In queste tre parole, buono, non ti muovere, fai silenzio, stai zitto, possiamo rivedere il senso di quello che stiamo dicendo. Infatti, fare il bravo, oppure l'essere buoni, si traduce anche a scuola, nell'essere conformisti, nel rispettare le regole, nell'essere eterodiretti, erodiretti, giudiziosi, malleabili, plagiabili, se volete. Al contrario, sulla famosa lavagna, nella lista dei cattivi, vengono annotati quei bambini che si muovono troppo, che parlano, che fanno i capricci, che protestano per un'etichetta che è troppo stretta per loro, che rappresenta un destino che però a noi appartiene. Ecco, questo atto di protesta viene percepito dalla collettività come una sorta di tradimento. Infatti, nel momento in cui noi usciamo dai canoni collettivi e tradiamo la società, ribellandoci alle sue regole, indirettamente sconfermiamo gli altri, perché stiamo cercando qualcosa di nostro, seguendo quella vocina interiore flebile ma persistente, che è solo nostra e non appartiene a nessun altro. Ecco perché abbiamo la sensazione di essere soli. la solitudine. L'eroe, non a caso, è uno solo. L'eroe, ovvero il nato due volte, viene scacciato dalla sua patria, viene rifiutato, rigettato, è un reietto. e in questo simbolico gesto del rigetto noi però espelliamo un nutrimento interiore inconscio che non riconosciamo in noi stessi. e non a caso, appellarsi ad un ordine esterno equivale a non desiderare, a dormire, ad adagiarci nella prevedibilità. Non desiderare, anche nelle relazioni affettive, quando noi non desideriamo l'altro, cosa significa? Significa che abbiamo la certezza che l'altro non ci sfuggirà. Significa che stiamo esercitando il nostro potere su di lui, il nostro dominio, come fa il narcisista. Non serve più desiderare quando noi possediamo l'oggetto. Non serve. le cose che ormai abbiamo conquistato e che sono nostre non le desideriamo più perché il desiderio è ricerca, è bramosia, è creatività. E la creatività in questo discorso che cos'è? È l'assenza della paura di sapere. E qui il cerchio si chiude. Per ogni approfondimento vi rimando ad una playlist dedicata alla creatività e all'autorealizzazione che troverete nel mio canale YouTube Roberto Luga è psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata. Se volete richiedermi una consulenza dovete scrivere un messaggio su WhatsApp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando nome e cognome e orari preferiti. E inoltre vi invito a leggere i miei libri che si trovano solo su Amazon. Buona giornata.